Da diverso tempo la città di Senigallia soffre per la mancanza di notizie certe sul futuro dei ponti Garibaldi e degli Angeli. Il primo ancora fermo in attesa della ricostruzione, il secondo a rischio demolizione. Per Ponte Garibaldi nelle scorse ore la soluzione è stata presentata alla soprintendenza con la decisione di realizzarlo 50 metri più a monte della precedente collocazione. Ora mancherebbe solamente un parere sull'estetica. Due sono le problematiche principali, la prima è quella appunto di dover posizionare il ponte a un metro e mezzo sopra quella che è la soglia duecentennale della Piene del Fiume che ovviamente determinerà un innalzamento del ponte stesso. Il secondo problema è ovviamente quello di fare in modo che questo ponte non impatti con la visione dei portici che è vincolata ma soprattutto non impatti con quella che è la circolazione. Questo significa che a breve arriverà il progetto dell'ANAS? Questo significa che l'ANAS sta pensando a questo progetto e quindi di conseguenza sta cercando una soluzione. E per quello che riguarda l'inizio dei lavori che data si potrebbe ipotizzare? L'ANAS ieri ci ha parlato di un progetto che se tutto avviene secondo un iter potrebbe essere pronto nel giro di un mese e mezzo e quindi poi successivamente si potrebbe, credo, potrebbero anche procedere. Quindi lavori prima dell'estate per concludersi prima dell'inverno? Guardi io con i tempi non ho mai garantito i tempi soprattutto se non sono tempi relativi al mio lavoro però si tratta di tempi che loro garantiscono poter essere appena finita l'estate non dico avere il ponte ma essere a buon punto. Io non lo so però questo se succederà, sarei già contento se succedesse entro la fine del 2024. La gente però è spazientita, cosa diciamo ai senegaliesi? Che hanno ragione, però è vero anche che sono sorte queste novità, cioè che il ponte fino a qualche tempo fa sembrava potesse realizzarsi come quello del 2 giugno. In realtà a quello che si apprende soprattutto ai giornali ma a quello che alcuni anche soggetti che erano responsabili hanno saputo è che il ponte deve avere in base alla normativa un infradosso molto più alto di quello che è stato realizzato con il ponte 2 giugno e quindi di conseguenza bisogna appunto avere sulla base di questo è stata rifatta una pregettazione secondo norma. Insomma a sintesi il ponte si farà? Il ponte si deve fare.